A leggere sto ancora, a un ritorno da cura. E, guardate che sono riportate eh! Ora, appena provi la catatura, è un ritorno da un ritorno. Ora, appena provi la natura, a un ritorno da un ritorno. È un ritorno, brevemente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.